Salve a tutti ragazzi, sono Zetawillix, oggi sono qui con un nuovo video in cui vi mostrerò un trailer ufficiale rilasciato dalla Rockstar che riguarda le rapine in banca e praticamente in quel trailer si può notare una squadra che sta compiando una certa missione che molto probabilmente riguarderà le rapine in banca. Un trailer cortissimo però direi davvero interessante e grazie a questo trailer ci fa capire che finalmente le rapine usciranno veramente il 10 marzo. Vi lascio al trailer sottotitolato in italiano. Sottotitolato in italiano.